Mi chiamo Dora Germoglio, sono una personal trainer e lavoro e vivo a Verona e lavoro in uno studio di personal trainer. Ho applicato da subito il metodo Bipro ai clienti con cui già lavoravo, quindi in corso d'opera e soprattutto l'ho sperimentato sui nuovi clienti. Lavoro con clienti che si approcciano all'allenamento per la prima volta e anche con clienti già evoluti, quindi abituati ad allenarsi. I clienti sono molto contenti perché con i propri occhi e col proprio corpo vivono la progressione.